Il numero dei minori che fanno il viaggio da soli è arrivato quest'anno, è un numero molto più alto di quello dell'anno scorso. Sono già almeno 6100 ragazzini che hanno in media tra i 14 e i 17 anni, ma le incontriamo sempre più spesso anche molto piccoli, 9-10 anni, che hanno affrontato il viaggio da soli o che hanno perso i loro parenti, familiari, le persone con le quali viaggiavano durante il viaggio, come è capitato due giorni fa con la piccola bambina nigeriana di 9 mesi e il bambino di 5 anni del Sudan. Grazie